Le video notizie di distribuzione moderna Il nuovo lancio riguarda Perugine Granellati, un prodotto che si differenzia da quello che è presente oggi sul mercato perché va a cogliere un trend molto importante. Questo trend molto importante è quello dell'autenticità e dell'artigianalità che sempre di più i consumatori non solo in Italia ma in tutta Europa e in tutto il mondo stanno cercando. Perché diciamo artigianalità? Perché è una pralina nuova da un cuore di cioccolato fondente ricoperta da croccante granella a vista. Quindi veramente il consumatore può apprezzare da subito tutta quella che è la trasparenza degli ingredienti con cui è fatto, quindi la vera e propria autenticità. È un prodotto che incarna l'artigianalità perché ogni prodotto è diverso dall'altro, è come se fossero fatti a mano. Ed ecco perché noi diciamo molto spesso che sono perfettamente imperfetti. È frutto di una ricerca molto lunga questo prodotto, tanto studio sia sugli ingredienti che sugli abbinamenti ma soprattutto sulla ricerca di un gusto unico che oggi è disponibile in quattro varianti che sono il caramello salato, l'arancia, i semi di cacao e le nocciole tostate. Questo è un prodotto che nasce in Italia, quindi nasce con tutta l'artigianalità italiana ma proprio perché noi siamo sempre più alla ricerca della valorizzazione del Made in Italy l'Hub di San Sisto, l'Hub internazionale di San Sisto in cui viene prodotto questa pralina nuova lo esporterà anche in mercati importanti come la Francia e la Spagna. Questa è la nostra grandissima sfida, quella di portare un pezzo di storia italiana all'estero. Infatti siamo presenti in oltre 55 paesi con Baci oggi dove fondamentalmente cerchiamo sempre di essere estremamente rilevanti per i nostri consumatori. Vogliamo sempre di più lavorare portando questa esperienza di marca italiana, lavorando proprio sull'artigianalità che contraddistingue Baci e che comunichiamo sia attraverso il digital ma anche sul punto vendita perché nei principali punti vendita internazionali, parlo di Nord America ma parlo anche di Cina, noi facciamo vivere l'esperienza di artigianalità del Bacio sia attraverso delle demo di prodotto con il maestro cioccolatiere ma anche con dei calligrafi che personalizzano a mano proprio le confezioni e i messaggi.